Cagliari-Bari 10 vive per la prima tappa della finale dei play-off di Serie B Obiettivi e punti salienti penalità per Bari al 39 gradi minuto.Che Dira passa dal punto di penalità e manca anche la confutazione del portiere Ci saranno più 3000 Bari davanti agli schermi giganti nello San Nicola seguire la prima tappa dei rossi e dei bianchi.Il club ha istituito tre schermi giganti nell'astronavi Renzo Chiano per una sera qui ci sarà una Linea emozione diretta con lo stadio Cagliari.La squadra Mignani D'altra parte, sarà supportata in campo dai quasi 400 fan che hanno Acquistato i biglietti il settore trasferta dello Sardo, raggiungendo l'isola nei modi più complessi e disparati punto tra i Bari che sono andati a Cagliari c'è il sindaco Antonio De Caro